Il mio problema è quello che adesso ho su, io sto lanciando le primarie per i parlamentari e mi piacerebbe molto che a poche settimane si chiedesse anche agli altri partiti, alle liste di informazione, come intendo non scegliere i parlamentari. Io mi sto occupando di questo adesso e gli altri prenderanno le loro decisioni, insomma voi potete chiederle a me.